Debutto amaro per coach Giovanni Benedetto, la Delfe Svakao contro Salerno e il trainer calabrese è soddisfatto a metà della prova offerta dai suoi. Promuove il carattere del roster bianco-verde ma c'è bisogno di lavorare sodo per uscire dalla penultima posizione di classifica. L'atteggiamento della squadra sicuramente non è dispiaciuto, probabilmente abbiamo la necessità sicuramente di violare tante cose perché questo è un campionato difficile, duro, dove ogni singolo particolare diventa fondamentale. Quindi lavoreremo sui nostri errori, sui tanti errori che abbiamo commesso. Sulle assenze di Astana e Spizzichini non ne vuole parlare il coach Regino, sottolinea che se la squadra nonostante le rotazioni in meno e quella vista negli ultimi 15 minuti può dire tranquillamente la sua. Non è utile di parlarne, lo sapevamo già da prima perché non ci sarebbero state, quindi poco importa, io guardo a quello che si è fatto. I giocatori che non c'erano li valuterò il momento in cui ci saranno e quindi a questo punto fondamentalmente guardo la partita fatta dagli otto giocatori che hanno tutti messo bene in campo e quasi tutte e otto hanno commesso gli errori ma ripeto se la strada intraprese è quella vista nell'ultimo quarto e negli ultimi istanti di gara è la strada quella giusta.